una buona serata ed un per lavori restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiuso in entrate uscita lo svincolo di colonna del Grillo in direzione Siena. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Montecatini e Borgo Abbuggiano. I treni sulla linea Firenze Viareggio potranno subire ritardi variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.